Questa che vedete è l'acqua del fiume Agri che è sondato arrivando fin qui. Siamo al confine tra i comuni di Tursi e Policoro, nella provincia di Matera. Il fiume Agri scorre a circa 300 metri da qui. Le piogge abbondanti delle ultime ore, oltre i 200 mm, hanno portato il fiume a rompere gli argini. Guardate cosa è successo. Qui siamo nell'azienda agricola del signor Leonardo Conte. Questo locale è adibito a braceria. Qui ci vengono le persone a consumare i suoi prodotti. Ci raccontava che è la terza volta che accade in due mesi. Sì, in due mesi è la terza volta. Adesso siamo quasi sfiniti, a furia di pulire, ripulire, ma non è possibile. Non avete fatto in tempo a contare i danni dell'ultimo allagamento? Non è tanto il danno. È quella questione che non puoi lavorare. Quando non puoi lavorare ti senti dimoralizzato. Ho i suini sopra, che li allevo lo stato semibrato. Nel fango non riescono più a camminare. Perché purtroppo il terreno si è troppo impregnato di acqua. Ecco, la terra non trattiene più l'acqua. I canali non trattengono l'acqua piovana. I fiumi hanno rotto gli argini. Le dighe non destano preoccupazione. Però appunto sono i corsi d'acqua in Basilicata in questo momento ad essere sotto stretto monitoraggio. Anche il Bradano è esondato in più punti, allagando e creando i primi danni nelle aziende agricole. Ci sono centinaia di persone sfollate, decine di famiglie soltanto qui tra i comuni di Pisticci e Policoro, sempre in provincia di Matera. Molte strade provinciali e statali sono state chiuse. I sottopassi sulla statale 106 Ionica, sia all'altezza di Scanzano Ionico, sia in direzione Taranto che Reggio Calabria, sono stati chiusi per allagamento. Così un altro sottopasso, ve lo abbiamo mostrato questa mattina, nel comune di Policoro, dove l'acqua e la melma hanno raggiunto i 4 metri di profondità. Domani molte scuole rimarranno chiuse in circa una decina di comuni, sempre in provincia di Matera, e le previsioni parlano ancora di piogge durante la notte. E ovviamente col calare del buio la situazione preoccupa ancora di più. Da Policoro è tutto, la linea può tornare allo studio.